E' caos in Lega Pro. Ancora non si è conclusa la stagione corrente di un campionato che attende di conoscere l'ultimo verdetto, la promozione in B del Trapani o del Piacenza, che già siamo alle minacce più che concrete, quelle di non far partire la prossima edizione della Serie C. Oggetto del contendere il mancato inserimento nel decreto crescita di un provvedimento di defiscalizzazione degli utili prodotti dalle società. Un passaggio vitale per lo sviluppo del calcio di provincia, secondo il Presidente Francesco Ghirelli. Vogliamo che una parte delle risorse che vengono date al fisco tornino alle società. Tornino alle società senza mettere un euro in tasca per strutture sportive per i giovani e per la formazione dei giovani. In questo modo indichiamo un modello per il paese, non per il calcio. Le conseguenze di un mancato intervento da parte del governo sarebbero radicali. Ci ragioni, no? Questo calcio, a me fa piacere che vengano alle partite, dicano che serve per il femminile, serve per la palacanestro, serve per il ciclismo, serve per tutto quello sport e che ha una difficoltà di misurarsi ed è un tessuto connettivo di questo paese. Allora ci dobbiamo mettere d'accordo, noi possiamo fermare il campionato.